E' stata rapinata nella notte tra martedì e mercoledì una stazione di servizio nei pressi dell'autogrill Ovanto Sud sulla A16 Napoli Canosa nel tratto tra Candela e Cerignola. Secondo una prima ricostruzione che è stata fatta dalla polizia stradale che è intervenuta sul posto, tre uomini a bordo di una macchina sono giunti a forte velocità e hanno minacciato i dipendenti di turno, portando via sigarette e gratte vinci occhiali da sole per un valore di circa 3.000 euro. I poliziotti stanno visionando i filmati delle telecamere a circuito chiuso nell'area di servizio che già in precedenza, nei mesi scorsi, era stata presa di mira per altre rapine. Grazie